Dieci esperienze da fare sull'isola di Gran Bahama Visitare l'Ukaya National Park con la spiaggia del film Pirati dei Caraibi Fare snorkeling nella barriera corallina Provare il conch, il piatto nazionale Fare il bagno con le razze e gli squaletti Visitare il centro Coral Vita per il recupero dei coralli Passeggiare al Porto Lukaya Market, dove c'è anche il Museo del Mare Partecipare a una scena People to People a casa di una famiglia locale Visitare il Garden of the Groves Il giardino botanico in onore del fondatore di Freeport Trascorrere una serata tipica Bahamiana al Fish Fry Girare l'isola in e-bike Tagga un amico con cui ci andresti e seguimi per altri consigli di viaggio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!